momenti di paura in tutta la regione per il terremoto che poco dopo le 9 ha colpito il nord italia epicentro nella bassa reggiana la scossa di 4,9 gradi di magnitudo è stata avvertita anche a bologna molte chiamate ai vigili del fuoco ma nessun danno maggiore severità nella riscossione della tassa dei rifiuti che col decreto sviluppo passa direttamente in mano al comune in arrivo multe per i ritardatari e atti ingiuntivi ma saranno più semplici le modalità di pagamento nuova bufera sul carcere minorile di bologna salvato per un soffio un ragazzo magrebino che tentava di piccarsi l'intervento degli agenti ha evitato il peggio ma la situazione dell'istituto del pratello rimane drammatica è salvo lo sterlino storica piscina bolognese sull'orlo della chiusura presentata dal cus bologna un'offerta di acquisto l'impianto rimarrà aperto le attività andranno avanti con l'aiuto del comune dell'università in arrivo alcune migliorie aumentano i fallimenti di aziende vittime della crisi economica nel 2011 in emilia romagna hanno chiuso i battenti 899 imprese quasi il 15 per cento in più rispetto a due anni fa la nostra regione la quinta in italia tra le più colpite dalle chiusure buonasera benvenuti a etg è stata avvertita distintamente anche a bologna la scossa di terremoto che questa mattina intorno alle 9 e 06 ha fatto davvero tremare il nord italia il sisma ha avuto una magnitudo di 4.9 con epicentro in provincia di reggio emilia tra i comuni di poviglio boretto brescello e sorbolo anche a milano la scossa è stata avvertita nel capologo lombardo molte persone sono scese in strada per la paura finora si registrano solo lievi danni e qualche ferito indiretto cioè che si è infortunato tentando di lasciare la propria casa o comunque di scappare ma per saperne di più sentiamo che cosa ci ha detto al telefono il responsabile regionale della protezione civile demetrio egidi alle 9 06 c'è stata questa scossa principale di terremoto di 4.9 richter che ha interessato come zona epicentrale la bassa reggiana soprattutto poviglio come zona epicentrale ma anche gattattico castelnuovo brescello boretto profondità 33 chilometri quindi molto profondo non ci sono state gravi conseguenze sul territorio i tre o quattro feriti che ci hanno segnalato sono da panico c'è persone che nel nell'agitazione delle scale velocemente quindi non direttamente a terremoto ma indirettamente però le scuole sono state chiuse precauzionalmente le scuole sono di tutti i comuni dell'area pre-centrale sono state chiuse precauzionalmente nei sette comuni quindi sorbolo borretto brescello campeggine castelnuovo anche in altri comuni della zona di risentimento che naturalmente per il panico che si è determinato dovuto alla scossa di intensità rilevante e la massima intensità che si può attendere in queste zone che sono per fortuna bassa semplicità ha creato un forte panico quindi la decisione dei sindaci di chiudere le scuole precauzionalmente ad esempio il castello di Torrechiara il famoso castello la soprintendenza ci segnala danni che sono in qualche modo come dire fisiologici sulle strutture di particolare vulnerabilità e dunque un sisma che non ha provocato grossi danni fortunatamente la ragione nonostante appunto una magnitudo abbastanza alta di 4.9 la ragione dicevo sta nella profondità dell'epicentro molto al di sotto della crosta terrestre questo ci ha spiegato al telefono l'esperto dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sentiamolo si è un terremoto abbastanza importante in termini di energia nel senso che la magnitudo locale la cosiddetta magnitudo Richter stimata al momento sta attorno a 4.95 non dovrebbe essere molto diversa da quello tenete conto che è stato registrato da circa 150 stazioni quindi la lavorazione e la riparametrizazione dell'insieme è un po' complessa però sta attorno a quell'ordine di grandezza quindi un terremoto discretamente importante l'altra caratteristica importantissima è che è un terremoto abbastanza profondo che sta tra i 20 e i 30 chilometri circa di profondità il parametro della profondità è sempre un pochino incerto il fatto che sia molto profondo fa sì che un terremoto che potenzialmente fosse stato superficiale avrebbe potuto produrre danni anche abbastanza seri in realtà abbia dissipato buona parte dell'energia però viene avvertito in un'area estremamente vasta quindi non solo è stato sentito molto forte in Emilia Romagna, Bologna, Modena comprese ma è stato sentito anche in Lombardia, in Veneto in un'area estremamente vasta ma proprio perché è un terremoto profondo quindi l'energia si irraggia lateralmente molto di più di quanto non faccia un terremoto superficiale qualche danno leggero, leggerissimo potrebbe averlo provocato principalmente a Parma quindi qualche segnalazione di leggerissime lesioni ci sono ma non ci aspettiamo che abbia provocato danni significativi proprio per questa ragione in sostanza e questa mattina a Bologna sia il 118 che i vigili del fuoco hanno registrato diverse telefonate di cittadini preoccupati per il sisma, per il terremoto cittadini che chiedevano più che altro informazioni oppure la semplice conferma di aver sentito davvero un terremoto nessun danno dunque a persone o cose segnalato in città a Bologna Cambiamo argomento, il decreto sviluppo del governo Monti consegna ai comuni la competenza diretta della riscossione della Tarsu, la tassa sui rifiuti sottraendola ad Equitalia, questo significa che ci saranno nuove norme e anche più severità con i ritardatari sentiamo Marco Rossi Sarà direttamente il comune di Bologna e non Equitalia a occuparsi della riscossione della Tarsu e questo è uno dei primi effetti del decreto sviluppo 2011 che comporterà more sicure per chi non pagherà entro le scadenze fissate per legge e la riduzione da 4 a 2 rate per coloro che non sceglieranno di saldare la tassa in un'unica soluzione La Tarsu non sarà l'unica nuova incombenza in capo all'amministrazione le prime multe firmate dal comune stanno già arrivando e saranno circa 100.000 agli atti ingiuntivi all'anno a carico di Palazzo d'Accursio Queste le nuove scadenze della Tarsu, la prima valida per la prima rata o per la rata unica sarà il 31 maggio la seconda il 30 novembre Per i ritardatari è pronto un sollecito con mora da 10 euro di oneri amministrativi al quale farà seguito l'eventuale azione di recupero tributi Le scadenze fissate da Equitalia, ha spiegato Mauro Cammarata, direttore del settore Entrate non erano fissate per legge ma convenzionali e questo creava dei problemi Con la nuova normativa invece non ci sarà libertà di interpretazione tra le modalità di pagamento in addebito RID sul conto corrente sono già partite circa 30.000 lettere per informare quei cittadini che usavano lo stesso metodo con Equitalia in bollettino postale, anche on banking e novità assoluta in Italia attraverso gli sportelli amico di poste italiane per chi smarrisse o non ricevesse i bollettini Il Comune ha anche attivato un call center 051-219-3429 e una mail tassarifiuti-chiocciolacomune.bologna.it La Tarsu sarà il primo vero esame per la nuova struttura messa in piedi dal Comune per la riscossione dei tributi Per noi sarà l'opportunità di offrire un servizio migliore, più vicino e consapevole dei bisogni dei cittadini ha sottolineato la vice sindaco Silvia Giannini L'amministrazione inoltre spenderà di meno anche se il lavoro non sarà di poco conto perché alla tassa sui rifiuti si aggiungeranno le multe e l'IMU Si tratta di cifre importanti, una ragione in più che, dice Palazzo d'Accursio, ci spingerà a lavorare bene Siamo alla cronaca, un giovane detenuto ha tentato di impiccarsi ieri sera nel carcere minorile di Bologna ed è stato salvato da un agente di sorveglianza La notizia è stata diffusa da due sindacati, Will Penitenziari e Sapp Un tunisino di 17 anni ha provato a suicidarsi con un pezzo di stoffa ricavato da un lenzuolo L'agente se n'è accorto, è intervenuto, lo ha liberato dal cappio insieme ad alcuni colleghi lo ha rianimato Ora è fuori pericolo e ancora una volta la polizia penitenziaria scrive Domenico Maldirazzi della Will Penitenziari a mettere una pezza alle falle del sistema proprio quella polizia che è oggetto di un iniquo provvedimento di trasferimento di massa per 27 agenti in servizio al carcere minorile infatti è stato disposto un provvedimento di trasferimento la situazione dell'istituto penale minorile del Pratello di Bologna e al centro di inchieste della procura minorile di quella ordinaria per episodi di risse, danneggiamenti e abusi anche di natura sessuale tra i detenuti Cambiamo argomento, la stangata IMU sulle seconde case affidate in comodato d'uso a parenti dei proprietari è totalmente iniqua lo sostiene l'Udc per voce del segretario provinciale Maria Cristina Marri una villa catalogata come prima casa finisce per costare meno di un appartamento dato da un genitore ad un figlio appena sposato questo il ragionamento dell'Udc, sentiamo Marri Maria Cristina Marri, il comune di Bologna ha deciso di applicare l'aliquota massima sulle case che un proprietario dà in comodato gratuito, quindi il 10,6 a voi però questa cosa non piace? No, perché questa possibilità è destinata solo e soltanto ai figli e ai genitori e nell'uso più diffuso ai figli che significa che i genitori mettono a disposizione i sacrifici e i risparmi della loro vita ai loro giovani che vogliono costituirsi una famiglia non ci piace perché l'aliquota è la massima addirittura superiore a quella dei fabbricati industriali quindi troviamo assolutamente iniquo che i risparmi di una coppia, di genitori, di una famiglia che decidono di mettere a disposizione questo bene per la fruibilità della casa ai loro figli che a loro volta costituiscono famiglia venga trattata addirittura peggio di quanto non lo sono i fabbricati industriali temono che dietro a questo fenomeno ci sia la possibilità di elusione e di evasione ma non è sulla base di una presunzione che si può agire in modo iniquo anche perché l'aliquota sulla prima casa viene mantenuta bassa e questo è positivo ma si può arrivare al paradosso per cui c'è una prima casa megavilla di molti 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 metri quadri che alla fine finisce per pagare meno di un appartamento dignitoso che viene affidato a incomodato gratuito da dei genitori e i loro figli Continuiamo a parlare di IMU nel definire l'aliquota per la prima casa il comune di Bologna porterebbe nelle proprie casse esattamente i 50 milioni di euro che mancano a sostenerlo è Alberto Zanni presidente di Confabitare il vice sindaco Giannini che ha anche la delega al bilancio l'altro giorno quando ha presentato in commissione lunedì mattina la nuova diciamo così il bilancio del comune del 2012 la manovra finanziaria ha detto che i soldi che mancano nei casi del comune al momento sono 50 milioni di euro perché ne mancherebbero 70 milioni 20 li risparmiano con tagli alle spese del comune ne mancano 50 io mi sono un po' dilettato a fare la somma delle varie entrate dovute da l'ICI per le prime case l'ICI per i... parliamo anche che ci sono i negozi ci sono gli uffici e quanto viene? quanto sarebbe l'incasso? 50 milioni guarda caso il comparto immobiliare copre pari pari tutto quello che serve al comune quindi diciamo la manovra finanziaria del comune di Bologna del 2012 è basato esclusivamente ovviamente sull'IMU cioè sull'imposta sulla casa sugli immobili perché ricordiamo per correttezza che come dicevo prima ci sono gli uffici i negozi diciamo così il capannone industriale cioè ci sono anche questi immobili quindi non sono solo le case però il comparto immobiliare in toto va a coprire totalmente quello che è il fabbisogno del comune di Bologna per l'anno 2012 buone notizie per la piscina dello Sterlino in via Murri a Bologna il CUSB ha presentato un'offerta di acquisto allora sentiamo in particolare il numero uno del centro universitario sportivo bolognese Franceschetti Rita Mandini lo ha raggiunto al telefono ci siamo impegnati dai primi di dicembre per risolvere la questione devo dire che è stato un lavoro durissimo perché la burocrazia l'interferenza di neanche l'interferenza ma l'interazione di diverse istituzioni alla fine ci ha complicato molto diciamo la vita però noi oggi consegniamo la nostra offerta al CONI alla CONI SPA quindi manifestiamo in maniera irrevocabile come richiede il CONI questa nostra offerta che vuol dire che lo stellino tanto rimane aperto quindi si definirà la data dell'acquisto definitivo Bologna può notare tranquilla lo stellino è aperto lo stellino va avanti non c'è nessun problema né per l'utenza né per la città perché il CUS Bologna lo acquisisce e poi sempre in comune continuerà a far svolgere le attività che si svolgono attualmente apporterà alcune migliorie nel corso degli anni grazie direi alla collaborazione tra il comune il CONI il CONI regionale provinciale l'università noi alla fine l'operazione è riuscita e dopo una notizia certamente positiva veniamo ai problemi che purtroppo ancora interessano il mondo economico bolognese aumentano in Emilia Romagna i fallimenti di imprese dovuti alla crisi economica nel 2011 sono stati quasi il 15% in più rispetto al 2009 sentiamo nel 2011 in Emilia Romagna si sono registrati 899 fallimenti 14,8% in più rispetto al 2009 quando le serrande abbassate erano state 783 è la quinta regione più colpita dalle chiusure dopo Lombardia Lazio Veneto e Campania stando a quanto emerge dall'analisi dei fallimenti in Italia realizzata da Cribis D&B la società del gruppo CRIF specializzata nella business information in Italia il numero complessivo dei fallimenti è stato di 11.707 con una crescita del più 4% rispetto ai casi del 2010 ma un ben più preoccupante più 25% rispetto ai casi del 2009 quando la crisi economica aveva già cominciato a manifestarsi in tutta la sua gravità nel quarto trimestre 2011 in particolare i fallimenti sono stati 3.313 in crescita rispetto ai primi tre trimestri dell'anno quando i casi rilevati erano stati rispettivamente 2.908 3.301 e 2.185 una buona fetta dei fallimenti in Italia ha coinvolto l'Emilia Romagna area del resto ricca di imprese più precisamente da gennaio a dicembre del 2011 sono state 899 le procedure concorsuali rilevate in questa regione un dato che ha segnato negli ultimi anni una lenta ma graduale crescita passando dai 783 casi del 2009 agli 889 del 2010 infine appunto agli 899 del 2011 il cadavere di un uomo di circa 30 anni è stato trovato in mattinata su una panchina in un giardino pubblico nella prima periferia di Bologna segnalare il fatto il corpo appunto alla polizia e al 118 sono state diverse telefonate di passanti il parchetto si trova dietro la copp di via Massarenti nelle vicinanze dell'ospedale Sant'Orsola l'uomo secondo le informazioni è originario di Cattolica nel Riminese e domiciliato a Bologna avrebbe alcuni precedenti di polizia vicino al corpo è stata trovata una siringa che fa pensare ad un overdose di stupefacenti della morte è stato informato il pubblico ministero di turno Gabriella Tavano ci fermiamo la pubblicità ma torniamo tra poco di nuovo studio con ETG prima di proseguire rivediamo il sommario del nostro telegiornale momenti di paura in tutta la regione per il terremoto che poco dopo le 9 ha colpito il nord Italia epicentro nella bassa reggiana la scossa di 4,9 gradi di magnitudo è stata avvertita anche a Bologna molte chiamate ai vigili del fuoco ma nessun danno maggiore severità nella riscossione della tassa dei rifiuti che col decreto sviluppo passa direttamente in mano al comune in arrivo multe per i ritardatari e atti ingiuntivi ma saranno più semplici le modalità di pagamento nuova bufera sul carcere minorile di Bologna salvato per un soffio un ragazzo magrebino che tentava di impiccarsi l'intervento degli agenti ha evitato il peggio ma la situazione dell'istituto del Pratello rimane drammatica è salvo lo sterlino storica piscina bolognese sull'orlo della chiusura presentata dal CUS Bologna un'offerta di acquisto l'impianto rimarrà aperto e le attività andranno avanti con l'aiuto del comune e dell'università in arrivo anche alcune migliorie aumentano i fallimenti di aziende vittime della crisi economica nel 2011 in Emilia Romagna hanno chiuso i battenti 899 imprese quasi il 15% in più rispetto a due anni fa la nostra regione è la quinta in Italia tra le più colpite dalle chiusure continuiamo con il notiziario sciopero degli autobus venerdì prossimo a Bologna il sindacato USB ha infatti indetto una stensione dal lavoro per il personale viaggiante di ATC venerdì 27 gennaio prossimo gli autobus si fermeranno dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio negli orari di sciopero precisa l'azienda i servizi di trasporto pubblico urbano suburbano ed extraurbano non saranno garantiti parliamo di smog il mese di gennaio a causa anche della nebbia e dell'alta pressione ha fatto registrare un livello davvero altissimo di sforamenti del livello di polveri sottili cioè di inquinanti dispersi nell'aria sentiamo quello che si sta concludendo è stato un mese di gennaio particolarmente difficile sul fronte smog la centralina di Porta San Felice ha registrato nella giornata di ieri 105 microgrammi di polveri sottili per metro cubo d'aria un valore che è più del doppio del limite consentito 50 microgrammi al metro cubo e non è andata meglio nelle altre zone di rilevazione dello smog in città 83 microgrammi ai giardini Margherita 84 in Via Chiarini 93 a Villa Torchi anche a Imola l'aria è tutt'altro che respirabile con valori che superano i 95 microgrammi nei due punti di rilevamento le brutte notizie in tema di ambiente e salute non finiscono qui dall'inizio dell'anno ovvero in poco più che tre settimane Bologna si è già giocata 14 dei 35 sforamenti dei limiti consentiti dalla normativa europea sono infatti 14 gli sforamenti a Porta San Felice 13 a San Lazzaro 12 ai Giardini Margherita 11 a Villa Torchi e Via Chiarini i dati non vanno tanto meglio nelle altre province emiliane continua l'emergenza smog avverte il consigliere regionale dei Verdi Gabriella Meo in effetti i livelli di PM10 hanno oltrepassato la soglia massima consentita in quasi tutti i capoluoghi addirittura doppiando il valore a Piacenza 104 microgrammi per metro cubo a Parma 129 a Reggio 120 a Modena 116 a Ravenna 103 a Forlì 117 le previsioni meteo che nello scorso mese di dicembre avevano convinto la regione a revocare le misure di limitazione della circolazione si sono rivelate più teoriche che reali denunciano ancora i Verdi visto che dall'inizio del 2012 e quindi in soli 23 giorni si sono registrati molti sforamenti come sempre si aspetta che a rimediare arrivi il tempo e su questo fronte a partire da oggi è prevista la discesa di un vento freddo da est che forse potrà ripulire l'aria anche se fino a sabato un vero e proprio cambio di circolazione non ci sarà e dunque saranno possibili altri sforamenti ci fermiamo un'altra breve pausa pubblicitaria ma torniamo subito con ATG c'è solo il tempo per rivedere quelli che sono stati gli argomenti più importanti di oggi a Bologna momenti di paura in tutta la regione per il terremoto che poco dopo le 9 ha colpito il nord Italia epicentro nella bassa reggiana la scossa di 4,9 gradi di magnitudo è stata avvertita anche a Bologna molte chiamate ai vigili del fuoco ma nessun danno maggiore severità nella riscossione della tassa rifiuti che col decreto sviluppo passa direttamente in mano al comune in arrivo multe per i ritardatari e atti ingiuntivi ma saranno più semplici le modalità di pagamento nuova bufera sul carcere minorile di Bologna salvato per un soffio un ragazzo magrebino che tentava di impiccarsi l'intervento degli agenti ha evitato il peggio ma la situazione dell'istituto del Pratello rimane drammatica è salvo lo sterlino storica piscina bolognese sull'orlo della chiusura presentata dal CUS Bologna un'offerta di acquisto l'impianto rimarrà aperto le attività andranno avanti con l'aiuto del comune e dell'università in arrivo alcune migliorie aumentano i fallimenti di aziende vittime della crisi economica nel 2011 in Emilia Romagna hanno chiuso i battenti 899 imprese quasi il 15% in più rispetto a due anni fa la nostra regione è la quinta in Italia tra le più colpite dalle chiusure con questo è davvero tutto il nostro telegiornale si chiude qui grazie per averci seguito vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a tutti